Benvenuti a tutti e a tutte Handler Cell per Nocturne, una donna indipendente e libera. Ricordati prima di continuare di iscriverti al canale per essere sempre informato sulle ultime news. Cari amiche continua la grande collaborazione tra Nocturne e Handler Cell, la bellissima protagonista di Love is in Teher. Ormai Handler Cell è diventata a tutti gli effetti il volto di Nocturne, nota azienda turca per abbigliamento da donna. Infatti l'amatissima attrice turca è stata la testimonial della collezione Primavera-Estata 2022 firmata Nocturne. La stessa Handler Cell ha pubblicato un video di presentazione della collezione sul suo profilo Instagram. Nel post è riportata la seguente frase. La collezione Nocturne Primavera-Estate 2020 interpreta l'energia inquieta della città con colori forti e silhouette pionieristiche e si ispira alla donna libera Nocturne. Unisciti a noi perché lo stile è tuo. Dunque Handler Cell non è solo attrice ma anche una fotomodella di altissimo livello. Infatti il suo volto è molto ricercato in Turchia. Naturalmente i fan dell'attrice turca sono andati in visibilio. L'entusiasmo è manifestato attraverso l'hashtag dell'evento. Hashtag NocturneXandler Cell. Pensate che l'hashtag è arrivato a 50.000 tweet e tale numero sarà destinato a salire. Personalmente credo che la scelta di Nocturne di puntare su Handler Cell sia stata giustissima. In particolare la scelta premia l'azienda di abbigliamento in termini di grande visibilità. I numeri parlano da sola. Handler Cell e i suoi numeri da capogiro. In ogni sua attività Handler Cell sta ottenendo numeri da capogiro e i momentanei 50.000 tweet saliti nella notte oltre 100.000 sono solo uno degli esempi che dimostrano il grande affetto per l'attrice turca. Affetto che non è solo manifestato dai suoi fan turchi ma dai fan di tutto il mondo inclusa la fandom italia. Anche in questo articolo viene evidenziato un altro dato Handler Cell è appena arrivata a 27 milioni e 500 mila follower sul suo profilo instagram. I seguaci della bellissima attrice turca stanno crescendo a vista d'occhio. Continua a seguirci sul nostro canale. Ricordati di iscrivere e ti terrò a giornata giorno per giorno. A presto!